L'hotel Lido di Riva del Garda, per la prima volta dopo la sua riapertura, ha chiuso il bilancio in positivo. Il 2016 ha fatto registrare infatti 100.000 euro di utile, con 5 milioni di euro di ricavi. Il 5 Stelle Rivano, di proprietà della Lido Palace SPA, controllato dal comune attraverso la società Lido SRL, che detiene il 51% delle quote, è da sempre sotto i riflettori. Più volte negli anni si è parlato della necessità da parte del comune di uscire da quella che a tutti gli effetti è un'attività imprenditoriale. Il tema è stato anche inserito nel programma amministrativo del sindaco Mosaner. Si suppone dunque che nei prossimi anni possa esserci una svolta amministrativa.